Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, ben trovati al consueto appuntamento con il Tg10, l'apertura del notiziario oggi è dedicata all'udienza che si è svolta ieri in tribunale in merito alla richiesta straordinaria presentata da due avvocati in rappresentanza di 500 cittadini di fermare gli impianti ancora in marcia al petrolchimico di gele e le altre attività che starebbero continuando a produrre inquinamento ambientale con effetti nocivi sulla salute della popolazione. L'avvocato dell'Eni ha riferito che se il tribunale dovesse accogliere il ricorso straordinario per presunti danni derivanti da un inquinamento industriale si metterebbe in discussione il protocollo di intesa con i suoi investimenti da 2,2 miliardi di euro e la stessa presenza dell'Eni sul territorio. Vediamo. Se il tribunale di Gela dovesse accogliere il ricorso straordinario per presunti danni derivanti da un inquinamento industriale, finora privo dell'onere della prova, si metterebbe in discussione il protocollo di intesa con i suoi investimenti, 2,2 miliardi di euro, e la stessa presenza dell'Eni nel territorio. L'ho detto l'otario Dittrick, avvocato dell'Eni durante l'udienza di ieri al tribunale civile preseduto dal giudice Virgilio Dante Bernardi, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta straordinaria dagli avvocati Luigi Fontanella e Laura Vassallo in rappresentanza di 500 cittadini di fermare gli impianti ancora in marcia al petrolchimico di Gela e le altre attività che starebbero continuando a produrre inquinamento ambientale con effetti nocivi sulla salute della popolazione. Il legale del cane a se zampe durante lo suo intervento ha assicurato che l'intero stabilimento gelese è fermo da mesi e che hanno da temere più i milanesi per l'alto tasso di micropolveri che i gelesi per la presenza del petrolchimico. L'avvocato che rappresenta il comune di Gela, Mario Cosenza, ha chiesto a carico dell'Eni l'istituzione di uno fondo provvisorio di 80 milioni di euro a sostegno dei lavoratori colpiti dai veleni industriali. Si tratta dell'appendice di un altro processo civile che vede le famiglie di una trentina di bambini nati malformati rivendicare il risarcimento dei danni materiali e morali per i loro figli. Gli avvocati dei lavoratori e del comune hanno presentato documenti e perizie a sostegno delle loro accuse fermamente respinte dagli avvocati dell'Eni. Il giudice Bernardi ha deciso di aggiornare la seduta al 25 febbraio prossimo per consentire all'azienda di prendere visione dei nuovi atti, preparare le repliche e a tutti per ulteriori istanze istruttorie. Comunque finisca questo processo, ha detto in aula l'avvocato Fontanella, avremo vinto perché siamo riusciti a superare l'indifferenza al sistematico scempio ambientale e a sconfiggere la paura della denuncia. Intanto i consiglieri comunali di Polo Civico Guido Siragusa e Sandra Bennici hanno presentato un atto di indirizzo al fine di impegnare l'amministrazione comunale di Gera a predisporre un piano finanziario di utilizzo delle royalties istituendo un tavolo tecnico composto dal sindaco o assessore delegato, dirigente al bilancio e quattro consiglieri comunali. Il piano deve essere adottato dalla Giunta e approvato dal Consiglio. Gli interventi, dicono Siragusa e Bennici, devono riguardare il sostegno alle imprese cooperative per il 20%, al miglioramento dell'efficienza energetica non superiore al 5%, ad interventi per fondi di microcredito a favore delle piccole e medie imprese con una percentuale non superiore al 10%, interventi di detassazione fiscale unicamente al sostegno delle famiglie più numerose in relazione all'Iseg non inferiore al 10%, interventi per bonifiche e riqualificazioni ambientali entro il perimetro urbano non inferiore al 20%, il piano finanziario per l'utilizzo delle royalties non potrà prevedere una percentuale superiore al 20% e non inferiore al 15% di quanto introitato dall'ente per interventi di copertura della spesa corrente, comunque solo per prestazioni di servizi del settore socio-assistenziale. Oggi il Partito Democratico gelese con il nuovo segretario e il nuovo presidente si sono presentati alla stampa, c'era anche il deputato regionale Giuseppe Arancio affrontata la vertenza Eni, vediamo. Il Partito Democratico dopo l'elezione del nuovo segretario cittadino Giuseppe Di Cristina, venuta domenica scorsa, ha presentato la sua squadra questa mattina durante una conferenza stampa, si è parlato tra l'altro della vertenza Eni-Gela e di come il PD cercherà di affrontarla. I partiti hanno il dovere di dare rappresentanza alle istanze dei lavoratori e noi per questo abbiamo deciso oggi di chiedere agli organismi regionali e nazionali di intervenire, facendo subito un'iniziativa forte, convocando la direzione regionale del Partito a Gela insieme al segretario regionale, l'onorevole Ragiti, per essere interpreti di un disagio che questa città non merita. Noi in questo momento dobbiamo stare a fianco ai lavoratori. Il deputato regionale Giuseppe Arancio è entrato nel merito della vicenda che interessa l'ala renziana, che proprio domenica scorsa nel corso del congresso ha disertato l'appuntamento preannunciando ricorso per un congresso definito illegittimo, etichettandolo come il congresso di carnevale. Noi abbiamo celebrato un congresso in cui erano presenti due circoli per intero e il 50% dell'altro circolo. Quindi è un congresso ortodosso, poi gli altri possono fare quello che vogliono e non ci interessa. Al congresso era presente all'incirca quasi il 50% dell'area renziana, perché l'area renziana è un'area vasta. C'era Giacomo Pulizzi, Cirignotta, Luciana Garfì, che sono una parte rilevante di quest'area. Quelli che sono rimasti sono l'area che sono vicina a Fasulo, l'area fasuliana, che non capisco perché il congresso era aperto a tutti. C'era un accordo di come procedere, c'erano delle pregiudiziali che erano state poste dal loro leader, che erano state ampiamente accolte. Eravamo nella fase in cui tutto ciò che poteva creare un ostacolo a fare un congresso unitario era stato rimosso. Poi da lì dovevano essere dopo, in ulteriore riunione, concordare gli assetti. Però questa finale non c'è stata, perché praticamente dopo la riunione, la sera stessa, i consiglieri comunali hanno disconvermato l'accordo. Il Partito Democratico a Gera è preseduto da Claudia Caizza. Cercherò di mettere a servizio di questo partito l'esperienza che ho acquisito in questi anni a fianco di dirigenti importanti, come segretario di circolo, del primo circolo. E sono orgogliosa di affiancarmi alle nuove leve del partito, a nuovi giovani che si affacciano a questo partito per dare un contributo importante. Abbiamo il segretario, Peppe Di Cristina, che ha voluto costruire una squadra nuova, una squadra di giovani, donne e uomini, che hanno una loro esperienza, un forte radicamento sul territorio, persone sulla cui serietà e sulla cui rispettabilità non c'è nulla da eccepire e che vogliono spendersi per questo partito. Il ripristino degli habitat dunali nel paesaggio serricolo del Golfo di Gela per la salvaguardia di Leopoldi a Gussonei. Di questo si occuperà la giornata tematica fissata per domani alle 16 alla Pinacoteca del Comune di Gela. Al dibattito tra gli altri interverranno gli assessori comunali Simone Siciliano e Francesco Salinitro, ambientalisti, studiosi e docenti dell'Università di Catania, con la quale l'amministrazione messinese ha aperto un rapporto di collaborazione proprio sulla preservazione della pianta bulbosa. Nel progetto sono coinvolte le aree protette di Rete Natura 2000. Proporremo i temi dell'agricoltura rigenerativa come soluzione compatibile alle emergenze ambientali locali, annunciate il vice sindaco siciliano. Ci occuperemo inoltre del tema dell'uso controllato delle risorse idriche, della proposta di sistemi agricoli come il biodinamico e la permacoltura, dell'importanza dell'acquisizione di un piano strategico che concorre alla definizione di obiettivi e strategie finanziarie utili allo sviluppo controllato del paesaggio. E infine di approfondimenti collaterali come la gestione dei rifiuti in agricoltura e il tema della impollinazione con sistemi più innovativi. Un esposto alle procure di Gela a Grigento e Roma per rappresentare alcune condizioni e alcuni passaggi anomali nella istruttoria che la Mediterranea Wind Offshore ha goduto in merito alla richiesta di verifica di impatto ambientale per la realizzazione di una centrale eolico offshore di 137 MW circa per la produzione di energia elettrica nel Golfo di Gela, due miglia marine dalla riva, composta da 38 aerogeneratori. Lo hanno presentato i comitati difendi Licata Nopeos, Nopeos Butera e di difesa del Golfo di Gela. Sentiamo Giovanni Giudice del comitato difesa del Golfo di Gela. Al di là della nostra richiesta al TAR dopo tanti anni ci siamo accorti noi del Nopeos Gela Licata Butera, Palma di Montichiario e Agrigento nonché delle ex province Agrigento e Caltanissetta in contrasto a questo scellerato parco eolico abbiamo notato che da parte della società ma soprattutto anche del Ministero non vi è stato il rispetto della legge 152 che consente i limiti minimi dalla costa perché la proponente ha creato un progetto di 2 miglia circa mentre la legge parla di 3 miglia minimo. Al di là di questo non si sono neanche tenuti conto dei vincoli archeologici sottomarini in cui la chiara espressione della soprintendenza al mare non è stata presa in considerazione. È tutta una serie di cose che ci fanno pensare come non vi sia da parte sia del Ministero che della società un tener conto di tutte queste normative e anche di quelli che sono i vincoli per quanto riguarda proprio la costa che ha una sua caratteristica devota agli stabilimenti balneari, alla bellezza, alla tutela del paesaggio. Dunque così facendo si distruggerebbe sia la flora che la fauna marina? Altro che ci sarebbero danni ingendi ma non solo saremmo anche multati da quelli che sono i parametri europei che dicono tutt'altro perché anche l'Istituto LISPRA sostanzialmente per la ricerca e l'ambiente che è anche un istituto che lavora insieme al Ministero cammina di pari passo alle normative europee. Cioè realizzato questo parco che è una mera speculazione economica parliamoci chiaro perché non produce quell'energia e non è neanche idoneo ripeto alla costa e farebbe anche scattare non solo una devastazione negativa diciamo sull'assetto turistico e balneare ma bensì creerebbe anche delle sanzioni da parte diciamo dell'Europa quindi ci sono diverse diciamo incongruenze. Si apre una nuova era per l'Istituto Musicale Giuseppe Navarra di Gela la rinomata scuola fondata nel 1913 dall'allievo gelese di Arturo Toscanini rientra in uno dei progetti culturali tra i più qualificati dell'amministrazione comunale la giunta municipale preseduta dal sindaco Domenico Messinese ha infatti deliberato di far rinascere l'istituzione con una serie di misure a suo favore intanto ad essa saranno concesse nuove aule tra gli spazi della biblioteca mentre le esecuzioni dei musicisti si terranno nella chiesa di San Biagio l'Istituto Navarra inoltre intavolerà un'intesa con il Pietro Vinci di Caltagirone e insieme sigleranno una convenzione con il Conservatorio di Musica Santa Cecilia di Roma il progetto ha spiegato l'assessore alla cultura del comune di Gela Francesco Salinitro mira a costituire il Politecnico delle Arti un punto di riferimento per i talenti nel panorama musicale italiano che trova nella storia gloriosa del nostro rinato istituto la conferma di una preparazione accademica le due scuole siciliane saranno legate al Conservatorio Santa Cecilia per la formazione culturale musicale, l'assistenza didattica e la certificazione i reperti del mare se ne parlerà nel corso di una conferenza presieduta dal sovrintendente Sebastiano Tusa lunedì 15 febbraio prossimo alle 10 nei locali del liceo scientifico Elio Vittorini di Gela diretto da Angela Tuccio saranno presenti tra gli altri Pietro Carosia, comandante della Capitaneria di Porto di Gela Ennio Turco, direttore del museo e Francesco Cassarino Presidente, abbiamo bisogno di lei queste le parole scritte su di una cartolina indirizzata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella distribuita ai cittadini del Sindacato Autonomo di Polizia che ha allestito un gazebo informativo in Piazza Europa per denunciare apparati sempre più debilitati, mancanze di organico con la conseguente riduzione di 45.000 unità nelle forze dell'ordine così come l'inadeguatezza delle attrezzature quali vecchi caschi e armi, giubbotti antiproiettili e scaduto in scadenza un vero e proprio appello quello che il SAP ha voluto rivolgere al Presidente Mattarella affinché possa intervenire per ripristinare i regolari principi di uno Stato di diritto Sappiamo benissimo che da anni il comparto sicurezza è in collasso numerosi tagli sono stati fatti al nostro comparto hanno portato la Polizia di Stato e le altre forze dell'ordine a vivere quotidianamente in condizioni degradanti quindi chiediamo all'autorevole intervento del Presidente della Repubblica il Presidente Mattarella invieremo 100.000 cartoline da tutta Italia qui a Caltanessetta oggi chiederemo ai cittadini e a tutti i colleghi di unirsi a noi nella lotta noi non ci fermeremo, non ci facciamo intimidire siamo pronti a migliorare la Polizia di Stato perché noi amiamo la Polizia di Stato ci siamo arruolati non per fare carriera ma perché amiamo il nostro lavoro e chiediamo ai cittadini di unirsi a noi perché il cittadino è quello su cui si riversa tutto quello che noi denunciamo se il cittadino non ha oggi cognizione sente l'insicurezza è proprio a causa di questi tagli che sono stati fatti negli anni e cui noi sindacalisti e poliziotti abbiamo il dovere di denunciare l'opinione pubblica ad unirsi alla protesta anche la Confederazione del Sindacato Autonomo di Polizia rappresentata da Antonio Patti al di là di tutto comunque si fa leva anche su una mancata una mancata e reale trasparenza anche per situazioni che riguardano aspetti disciplinari che vengono a colpire il nostro personale di polizia che si trova coinvolto appunto in situazioni che hanno a volte come dire risvolti quasi paradossali quindi chiediamo appunto che le istituzioni si facciano carico delle nostre lamentele e cerchino di risolvere appunto le problematiche sollevate Sviluppare l'educazione ai media e le competenze tecnologiche questo è il tema di un seminario organizzato per domani con inizio alle 16 presso l'Istituto Comprensivo Enrico Mattei diretto da Agata Gueli il relatore sarà il sociologo Francesco Pira docente di comunicazione all'Università degli Studi di Messina che ha coordinato sul tema numerose ricerche e firmato diverse pubblicazioni lo scorso anno il professore Pira aveva incontrato tutti i docenti dell'Istituto quest'anno oltre ai docenti incontrerà i genitori i gelesi che hanno richiesto di fruire del servizio di assistenza domiciliare devono presentare entro domani all'ufficio di segretariato sociale del Comune di Gela l'attestazione in corso di validità dell'Isee l'indicatore della situazione economica equivalente lo ha reso noto l'assessore comunale ai servizi sociali Licia Abela il mancato adempimento agli sportelli di Viale Mediterraneo invaliderà l'istanza inoltrata lo scorso mese di gennaio da ultra 65 anni e portatori di handicap gravi ai quali è riservato il servizio di assistenza domiciliare mediante voucher sociale ci fermiamo termina qui la prima parte del nostro telegiornale spazio alla pubblicità linea alla regia Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale sono aperte le iscrizioni alla organizzazione di volontariato Giubbe d'Italia di Gela per informazioni contattare i seguenti numeri di telefono 0 933 914419 oppure 340 7249 566 oppure inviare una mail a giubbeditalia.com adesso la nostra consuetà rubrica in breve si terrà domani alle 17.30 nei locali della libreria Mondadori di Via Marconi 25 a Gela la presentazione del libro di Antonio Maria Calafiore La luce del tramonto converserà con l'autore e il giornalista Anza Franco Infurna saranno presenti l'editore Simona Maimone Angelo Ferrera animatore giovanile della parrocchia San Francesco e Maria Grazia Fasciana assistente sociale presso l'ufficio di igiene mentale sarà presentato domenica 14 febbraio presso il teatro Eschilo di Gela il libro scritto dall'ex presidente della regione siciliana Totò Cuffaro dal titolo L'uomo è un mendicante che crede di essere un re interverranno oltre all'autore Rita Bernardini già presidente dei radicali e l'avvocato Giacomo Ventura presidente della Camera Penale modererà i lavori la giornalista della Sicilia Maria Concetta Goldini concluderà la professoressa Lina Orlando amministratore della libreria Mondadori di Gela La sottosezione dell'unità al Sidi Gela celebra la giornata mondiale del malato oggi alle 18 celebrazione eucaristica in Chiesa Madre con la presenza del personale volontario e delle varie associazioni di volontariato domenica 14 febbraio celebrazione eucaristica presso la casa di cura Santa Barbara Comincia anche per la Fidas Adas di Gela la settimana dedicata alla festa di Chi si vuole bene in occasione di San Valentino ricorrenza che sarà celebrata domenica 14 febbraio al centro di raccolta fisso di Via degli Appennini numero 5 si terrà una speciale raccolta di sangue dedicata alle coppie che vorranno donare nella stessa giornata ad accoglierle i volontari che doneranno gadget scelti per la ricorrenza Stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al Teatro Eschilo di Gela protagonisti degli eventi saranno Ernesto Maria Ponte lasciate libero lo Scarrozzo e Giuseppe Castiglia il botteghino rimarrà aperto il venerdì e il sabato dalle 18.30 alle 20.30 prossimo spettacolo con Ernesto Maria Ponte il 17 febbraio prossimo siamo allo spettacolo andrà in scena sabato alle ore 21 al Teatro Eschilo di Gela la compagnia di Lipari piccolo borgo antico con la commedia brillante un pizzico di pizzo lo spettacolo rientra nel calendario sabato a teatro rassegna di lavori comici promosso dall'associazione Demetra si terrà domani alle 21 al Teatro Comunale Eschilo di Gela lo spettacolo opera panica di Alejandro Giorodowski la rappresentazione teatrale sarà portata in scena dalla compagnia dove come quando per la regia di Pietro Dattola questo spettacolo ha una struttura frammentaria accompagnata da un linguaggio semplice e diretto in pratica è un collage di scene che hanno l'obiettivo di dimostrare allo spettatore cosa fa lo spettatore nella vita al fine di poter cambiare perché normalmente si ritiene che l'uomo vada verso la felicità in realtà il modo che ha l'uomo per fare questa cosa lo porta in realtà a essere infelice di conseguenza Alejandro Giorodowski l'autore ci mette davanti uno specchio e ci dice guardate se vi comportate così come fate normalmente sicuramente andrete incontro all'infelicità fate qualcos'altro noi ci mettiamo dalla parte dello spettatore comune e mostriamo la vita come si svolge normalmente in modo ovviamente parossistico, in modo esagerato in modo che sia riconoscibile il cast è composto da Letizia Barone Ricciardelli Flavia Germania Delipsis, Andrea Onori e Marcello Paesano l'opera si compone di un insieme di scene che orbitano nella sfera dell'assurdo il mio clown infatti è una persona pura anzi troppo pura, talmente pura che viene messa da parte viene messa in difficoltà e lo fa vedere al pubblico e il pubblico si medesima ritrova molto facilmente se stesso in quella situazione perché chiunque ha attraversato le situazioni in cui si trova il clown solo che il clown è talmente strano è talmente diverso che è la prima vittima del sistema per cui è lì, è lì ed è lì tanta umanità insomma per cui mi fa una continua tenerezza una grande commozione e una grande poeticità secondo me e Franni con Richard Gere il film in programmazione al Cineteatro Antidoto di Macchita e la Gela sono tre gli orari di rotazione della pellicola 17.30, 19.30 e 21.30 con l'informazione cinematografica è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale grazie per aver scelto anche oggi la nostra informazione vi ricordiamo che i servizi, notizie e approfondimenti sono disponibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it vi ricordiamo come sempre che il nostro televideo è aggiornato arrivederci